La questione fondamentale è il fatto che il Presidente della Repubblica dovrebbe garantire innanzitutto il rispetto per le opposizioni, dovrebbe garantire la legittimità delle norme che vengono licenziate dal Parlamento e naturalmente la costituzionalità di queste norme. Che fosse ancora e sempre Napolitano in questo periodo considerato il garante del duo Berlusconi-Renzi, l'obiettivo numero uno del Movimento 5 Stelle lo si era capito fin dalla premessa stamattina nella conferenza stampa tenuta a Montecitorio dai tre deputati Giorgio Sorial, Laura Castelli e Maurizio Sant'Angelo. Ma era appunto tutta una premessa, la parte più pesante doveva ancora arrivare, eccola. E la tagliola tra l'altro riporta questo termine, vi riporta in mente come per l'appunto ci sia una violenza nei confronti delle opposizioni. Potremmo dire che il boia napolitano in questo momento stia avvallando tutta questa serie di azioni nei confronti proprio delle opposizioni per cucire loro le bocche, anzi per tagliarci quasi la testa ed evitare che noi possiamo riportare questo posto, i lavori di queste aule per il bene dei cittadini. E così la giornata che doveva essere quella della battaglia in aura per il decreto IMU Banca Italia e sul blog della seconda puntata del referendum in rete sulla legge elettorale diventa anche quella del boia, quella dell'insulto più duro fin qui indirizzato al presidente dai parlamentari a 5 Stelle e contro il quale si levano isolate le voci dei senatori Campanella e Battista, spesso critici in passato nei confronti di Grillo. Dobbiamo assolutamente evitare di dar modo agli altri partiti di appigliarsi alle modalità con le quali rileviamo i fatti. Dice il primo, mi dissocio, ci vuole rispetto per le istituzioni, il secondo. Ma intanto il caso è scoppiato e sicuramente in attesa dell'impeachment, di cui oggi Sant'Angelo continuava a non escludere entro breve la formalizzazione, rischia di far più rumore una parola di quattro lettere di tutto il resto. Denuncia contro la legge di stabilità compresa, illegittima secondo loro. Rispetto per le opposizioni.